ciao ciao amici benvenuti o bentornati qua sul mio canale sono in compagnia di luca qua è un po timido il ragazzo però per avere subito questa dolla speso 650 euro ragazzi guardate grazie a luca che l'ha presa via aereo riusciamo a farvi vedere guardate che spettacolo la doll di kenshiro kenshiro ragazzi un sesto della storm andiamola ad unboxare ragazzi e vi dico già che è qualcosa di fantastica abbiamo preso anche raul insieme lo prenderemo anche quello mi sa via aereo per avere averla in fretta guardate ragazzi che doll spettacolare guardate questo è solo il box avanti il box dietro e adesso andiamo a vedere nel dettaglio poi dopo la vedremo girare perché questo è un gioiello straconsigliato ragazzi veramente a tutti gli amanti di kenil guerriero assolutamente da avere in collezione felice dell'acquisto bello veramente spettacolare non vedremo l'ora che storm ci butta fuori anche raul quindi andiamo a vedere nel dettaglio e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale mi raccomando e mettete questi like allora ragazzi guardate qua il box si sfila all'interno adesso vi faccio vedere troviamo questo cartonato che ci rappresenta vedete le sette stelle di ocuto guardate che spettacolo levato questo cosa troviamo troviamo luca hanno esagerato forse con le mani perché guardate qua troviamo ben allora una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci 11 12 13 14 mani guardate ragazzi più quelle che sono indossate sul corpo quindi una cosa esagerata perché ci hanno fatto la possibilità vedete quando lui punta e minaccia l'avversario vedete quando lo sfida il duello troviamo proprio tutte tutte le mani adesso vi voglio far vedere alcune cose particolarmente bene perché allora gli hanno fatto la giacchetta completamente in pelle guardate qua con la cerniera si apre luca hai provato allora dentro c'è un cartoncino per non farla piegare sto tentando per la prima volta insieme a voi penso che si apre però un po dura perché sono vedete sono cerniere guardate qua ragazzi tutto in pelle guardate che che bello le gli spallacci guardate qua sono vedete cuciti guardate con questa parte all'interno della giacchetta che volevo farvela vedere ma sì si può aprire ecco io non ho vediamo a vediamo posso aprirla luca questa è la tua ecco guardate stiamo vedendo in diretta per vedere tutto bene guardate che bella la giacchetta e all'interno vedete praticamente c'è questa parte qua che non so se cucita o incollata ragazzi riprendiamo luca è stato cazzato da patrizia non spendere soldi comunque stavamo dicendo perché è giusto poi farvi finire di vedere sono luca diceva incastrati dentro poi forse incollati vedete hanno bloccati così penso che possiamo anche togliere bloccati con dici può essere vedete no non rischiamo però fatti bene guardate qua si molto belli sono curati veramente molto bene curata tutta la parte in pelle e la fibbia i laccetti guardate anche le cinture curate veramente bene le cerniere si curate veramente bene ragazzi è proprio un chiodo come comprava quando eravamo pischelli adesso vediamo il fulcro il pezzo forte pezzo forte una doll ragazzi strepitosa allora guardate qua guardate l'espressione del viso è proprio lui ragazzi lui incazzato come una bestia vi dico subito che pesa un sacco al tatto è una cosa mostruosa guardate come gli hanno fatto le cicatrici le sette cicatrici i muscoli guardate proprio tutto fatto in una maniera incredibile speriamo che non balla l'immagine perché luca qua dice che usa l'osmo pocket ma lo vedo tremante il ragazzo guardate guardate come sembra un corpo più che una dolla luca sembra una scultura guardate l'unico neo è ovviamente lo snodo però ragazzi guardate qua è siliconico è tutto silicone è tutto il corpo in silicone quindi praticamente ha un effetto guardate dei muscoli ottico che è spettacolare è veramente bellissimo guardate come hanno lavorato la parte qua è plastica ma è fatta talmente bene che sembra veramente stoffa guardate qua guardate la cintura guardate i pantaloni dobbiamo mettere un attimo in pausa perché a luca male braccio pausa ragazzi andiamo avanti e oggi la recensione così ma l'importante anche che con mille cose che ci capitano adesso ci è venuto a trovare chi è che era claudio claudio un amico di luca e se fate due risate anche lui un collezionista e quindi abbiamo avuto abbiamo fatto finta che gli faceva male braccio a luca invece è arrivato claudio comunque ragazzi guardate che spettacolo riprendiamo bene a fare questa recensione che potevo fare tranquillamente a casa mia ma vi volevo far vedere subito questa dolla eccezionale guardate qua ma come si fa a non innamorarsi subito di questo che ne guerriere perfetto luca che dici te stavamo dicendo guardate qua il braccio volevamo fatto vedere la parte qua anche se pvc plastica sembra proprio stoffa lavorata benissimo la parte di qua guardate che bella questa qua e ricordiamo a più di 16 mani in totali sì perché c'è 14 più di questa guardate che spettacolo questo braccio qua con questa parte e guardate come prima nella fretta non vi ho fatto vedere guardate tutte le venature sulle braccia un qualcosa guardate i muscoli che entrano col silicone per per andare a coprire lo snodo che c'è lo snodo la vedete ragazzi ma essendo tutto in silicone tende a non vedersi spettacolare spettacolare bellissimo partiamo continuo anzi a vedere la parte pantaloni in pelle come la giacchetta vedete ragazzi pantalone è in pelle fatto veramente bene anche guardate gli stivali in gomma vedete morbida ma lavorati benissimo guardate qua guardate qua lo buonero sta in piedi senza supporto sta in piedi come dice luca senza supporto veramente un piccolo gioiello che ragazzi dobbiamo per forza avere in collezione se amiamo che è nel guerriero dai andiamo a vedere girare allora luca che due chiacchiere su questo modello di ken abbiamo trovato difficoltà a mettere la giacca a mettere la giacca ragazzi perché perché la giacca è vero fargli proprio tutti questi muscoli in evidenza adesso poi zoomeremo e facciamo vedere però essendo pelle abbiamo paura che si rompa e l'hanno fatto proprio veramente tiratissimo cioè nel senso noi non riuscivamo ad allacciare la giacchetta sta anche bene così ma per esempio luca lo preferisce senza spallacci e senza giacchetta perché appunto non riesce ad allacciarla almeno la si riesce a allacciare ma abbiamo paura che arrivando da esperienza decennale nelle dolla abbiamo paura che poi anche se un buon tessuto tirato così tanto col tempo tende a lasciarsi andare a spaccarsi giusto luca quindi adesso zoomiamo zoomiamo un pochettino per farvi vedere meglio la doll che abbiamo scelto per voi questa posizione guardate che carina e che dire la doll ragazzi è bellissima lo scalp è bello la parte in silicone del corpo è veramente bella e quindi vedi qua sta indicando alice che tu hai dietro la finestra la vuole scoprare ma cazza di giulia allora adesso qua giulia non c'è c'è alice la dietro e che è abbastanza ingrifato e punta giulia a parte gli scherzi comunque lui è fatto veramente bene ma hanno toppato la giacchetta si quando è anche po grossi spallacci perché gli spallacci come guardate sono bravo luca un po forse sproporzionati nel senso sembrano troppo grossi rispetto alla doll vedete come sono giganteschi e la cosa brutta è averla fatta così attillata potevano farla un po più larga che anche se era un po larghina però giocava bene si allacciava bene potevamo scegliere noi come metterla invece è fatta così stretta la si può allacciare ma noi non l'abbiamo fatto giustamente perché luca è la sua e ha paura che si possa poi rovinare sta anche bene così slacciata però non posso dire niente sta anche bene così slacciata e poi magari farò uno short veloce quando arriverà via nave la mia perché la mia è a passeggio luca l'ha presa come abbiamo detto all'inizio di aereo la mia e via nave sta arrivando quindi adesso a passeggio nell'oceano e quando mi arriverà la mia magari farò uno short per vedere farò la pazzia vedere fin quanto riusciamo ad allacciare questa giacchetta sperando che poi non mi si rompa perché veramente molto molto attillata abbiamo fatto fatica ad allacciare l'abbiamo scelto infatti di tenerla slacciata per questo dai dire che possiamo anche andare a concludere che l'abbiamo vista più che bene vi spiezzo in due no ragazzi guardate veramente doll eccezionale oggi abbiamo improvvisato questa recensione un po così con l'amico luca per dire che è una doll che ne vale ragazzi veramente la pena assolutamente no sì ne vale la pena bella però questo problema della giacca vedete è un problema non da poco perché la giacca è troppo e troppo vedete aderente facciamo fatica poi ad andarla ad agganciare davanti alla sicuramente non la riusciremo mai questa giacca qua secondo me ad allacciare completamente chiusa non non penso non penso si riuscirà mai però diciamo che riusciamo ad allacciarla un pezzettino iniziale facciamo finta così che si intravedono sotto vedete le sette stelle secondo me questa qui poi la proverò a fare con uno short è la configurazione secondo me migliore per metterlo in vetrina lui comunque strapromosso per tutti gli amanti di kenel guerriero secondo me è la cosa che c'è oggi più bella si secondo me è più bella ovviamente non considerate le statue da 2 3 mila euro che ci sono delle statue stupende però le statue occupano troppo spazio costano troppo e se comunque finalmente vogliamo un ken il guerriero fatto bene in vetrina questo qua è eccezionale e sta sicuramente benissimo insieme anche al raul che uscirà secondo me sì quindi compratelo se non l'avete fatto ancora compratelo perché comunque ne vale la pena un saluto dal carletto da luca mi raccomando pollicione alzato like e se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale ciao ciao ragazzi e guardate che bel gioiellino comunque ne vale la pena